Buonasera a tutti, bentrovati. Oggi ci occupiamo di un tema certamente affascinante e la nostra conferenza si intitola appunto il pensiero affabulante tra fiaba e filosofia. Questo è il terzo tentativo, a dire la verità, che facciamo di metterla concretamente in atto e questa volta è la volta buona. La conferenza di oggi ricordo che rientra nel ciclo intitolato I colori della conoscenza e in particolare per i colleghi che seguono il nostro ciclo ricordiamo che devono scrivere il proprio nome e cognome sulla chat di YouTube al fine di avere poi l'attestato per la formazione valida appunto per i docenti. Sempre sulla stessa chat al termine dei nostri interventi potete scrivere per porci eventualmente delle domande. Allora cominciamo partendo proprio dalle origini e ci occupiamo del rapporto tra filosofia e mito. Allora voi direte ma come mai ci parli del mito e sul titolo della conferenza c'è scritto fiaba? Beh mi confortano le parole del grande antropologo Claude Lévi-Strauss che dice che le fiabe sono dei miti in miniatura in cui le stesse opposizioni sono riportate in scala ridotta ed è questo che le rende difficili da studiare. E allora il grande tema, il grande dibattito riguarda la continuità o la discontinuità tra filosofia e mito innanzitutto. Possiamo chiederci questo, il mito appartiene a una mentalità primitiva, prelogica oppure le sue esigenze come lo sforzo di spiegare, di venire a patti con la realtà e di vincere anche l'imprevedibilità e il dolore del mondo, sono le stesse che poi agiranno nelle grandi costruzioni metafisiche e teologiche dell'Occidente. esiste una differenza qualitativa tra filosofia e mito oppure c'è solo una differenza di grado, per così dire. Allora la tesi che qui io sosterrò è questa, è vero che la filosofia nasce con un distacco se non addirittura con una polemica nei confronti del patrimonio mitico, della tradizione, però è anche vero che il pensare per immagini e il potere pensante delle immagini rimangono una cifra fondamentale dello spirito umano. E allora qui vi riporto un brano di Hegel, lezioni sulla storia della filosofia. Certamente Hegel vede una discontinuità tra la rappresentazione che è proprio del mito e la concettualizzazione, il pensare per concetti, che è proprio della filosofia. Quando il concetto si è fatto maturo non ha bisogno dei miti, scrive Hegel. E allora potremmo chiudere qui la questione dicendo che ha ragione Hegel e quindi il mito c'entra poco o niente con la filosofia, ma in realtà le cose sono più complesse anche nel pensiero hegeliano, poiché ogni tappa è in un qualche modo necessaria all'interno del sistema, all'interno del tutto, anche se certamente il momento in cui la ragione si realizza nel grado più alto è certamente la filosofia per Hegel. Il mito poi in origine ha delle belle pretese in verità, non è una fola, un'invenzione, una favola, no? Come potremmo intenderlo noi? Il mito pretende di essere portatore di verità, di rivelare il senso del mondo. Il logos filosofico però si distacca dal mito perché si rende conto che questa verità non è sufficientemente potente, non è una guida sicura per l'uomo, non è salda la verità del mito, o per meglio dire non è innegabile, non è incontrovertibile. E la verità della filosofia è tale, pretende di essere tale non per rivelazione, né per tradizione e neanche perché i popoli hanno fede in essa, ma vuole essere appunto non smentibile per propria forza intrinseca, logica, razionale. Quindi la verità di cui i filosofi, già i primi, già i primissimi vanno in cerca, è innegabile ed è anche onnicomprensiva. Tiene raccolte insieme tutte le cose, è verità del tutto. Come indica il termine logos, dal verbo greco lego, che non vuol dire solo il dire, il parlare, ma anche il raccogliere, no? Quindi il logos è pensiero e linguaggio che raccoglie, che tiene insieme. E questo già a partire dai primi pensatori. Non sembra che Talete, parlando dell'acqua, abbia scoperto appunto l'acqua calda, sembra molto deludente il suo pensiero, ma in realtà non è così. Perché Talete già pensa quel principio unificatore del tutto, quell'archè, che è anche ciò che viene identico nella totalità delle cose. Mentre il mito pone l'accento più che altro sulla differenza, sull'opposizione, sulle lotte dei divini che rispecchiano i dissidi tra gli uomini, no? Quindi il logos filosofico va in cerca dell'unità che unifica la totalità delle cose. Poi è vero che ad esempio Aristotele, con un'affermazione che è rimasta famosissima, dice l'amante del mito, è in qualche modo filosofo, no? Perché anche il mito nasce certo dalla meraviglia e dal bisogno di sapere. Ma è anche vero che il mito al massimo è parente della filosofia, no? Se così possiamo definirlo. Certo, non è che nella teogonia di Esiodo o nell'epico-omerica ci sia solo fantasia priva di ragione, no? Così come nella filosofia permangono a lungo anche elementi mitici. Però in Esiodo il ruolo più importante è giocato dall'elemento fantastico, poetico e mitologico, no? Mentre in Talette abbiamo già qualcosa di nuovo. L'elemento che predomina è una spiegazione di carattere razionale rivolta al tutto e al principio del tutto. Nella teogonia di Esiodo si parla del caos. Vedete, nacque dunque il caos primissimo e dopo la terra dall'ampio seno, sede perenne sicura di tutti gli dèi. Ma il caos, che è la dimensione più ampia che il mito greco sia riuscito a pensare, è l'apertura originaria, l'immensità, no? Da cui si generano tutti gli altri mondi. Ma intanto il caos è a sua volta generato, non è principio eterno. E poi manca al caos il motivo per cui poter escludere che al di fuori di esso, per quanto immenso, per quanto ampio, si trovino anche altre dimensioni, altri mondi, altre sfere dell'essere. Quindi manca nel mito quel rivolgersi al senso del tutto e della verità innegabile, alla ricerca appunto di un principio eterno da cui derivano le cose finite. Nelle cosmogonie mitiche l'origine è sbiadita, quasi fino a scomparire, mentre già in talette l'acqua è elemento immutabile e permanente di tutte le cose. Fisis aiei sozzomene, natura sempre salva, dice Aristotele. Questo è ciò di cui vanno in cerca già i primi pensatori della scuola ionica di Mileto. A Esiodo manca quella capacità di raffigurarsi un universo sottomesso al regno della legge. E vediamo adesso qualche frammento di Eraclito, che è molto esplicito già nella terminologia filosofica che utilizza. Tutte le cose sono uno. Per chi ascolta non me, dice Eraclito, ma il logos. Quindi questo logos unitario che tiene unite tutte le cose, questo centro unificatore che per Eraclito è polemos, la guerra, l'unità degli opposti, che è la legge cosmica che governa il divenire. E questo è vero non per l'auctoritas dell'annunciante, del filosofo, ma per la forza intrinseca del discorso filosofico. I più invece prestano fede agli aedi delle moltitudini, dice Eraclito. E poi polemizza spramente, vedete, contro Omero, che merita di essere cacciato via dagli agoni affrustate. Esiodo, maestro dei più esiodo, mi piace moltissimo sempre questo frammento, credono infatti che questi conoscesse molte cose. Lui che non sapeva neppure cosa fossero. Il giorno e la notte, in verità, sono una cosa sola. Quindi esiodo non riesce a pensare in modo dialettico, parla di una notte preesistente al giorno, non è capace di pensare in raccogliersi dei contrari in unità. E quindi esiodo va superato, così come Omero. Ancora Eraclito, perciò bisogna seguire ciò che è comune, ma benché il logos sia comune, i più vivono come se avessero una loro saggezza privata. Quindi il sapiente riconosce l'unità del tutto in questa legge divina, mentre i più, i dormienti, li chiama anche Eraclito, non riescono ad espandere la propria conoscenza al di là della propria saggezza privata. La quale, però, come la saggezza antica del mito, è una guida malsicura per la vita dell'uomo. E infatti, scrive Eraclito, sapienza è dire e agire cose vere, intendendo secondo l'origine. Quindi solo la verità filosofica può essere una guida sicura per l'agire dell'uomo. Solo la verità, con la V maiuscola, permette all'uomo di cacciare via il dolore con verità. Qui l'espressione non è di Eraclito, ma è di Eschilo, il primo dei grandi tragici della grecità. E sempre Eschilo, nell'inno a Zeus, della Gamennone, ci presenta appunto Zeus. Ma chi è questo Zeus? È il dio del mito, che per quanto importante rimane appunto un dio fantastico. No, Zeus è qualcos'altro. Vedete come Eschilo stesso dice nell'Eliadi. Zeus è l'aria, la terra e il cielo. Zeus è tutte le cose e tutto ciò che sta al di sopra di queste. Quindi già Eschilo intende Zeus come principio divino e unitario. E guardate la consonanza con quest'altro frammento di Eraclito. La sola cosa, ciò che è sapiente, non vuole e vuole essere chiamata con il nome di Zeus. A testimoniare che il nome del dio del mito è in parte inadeguato per esprimere questa legge unitaria, questo principio divino è unitario del tutto. E poi andiamo avanti con un pensatore che si chiama Senofane di Colofone che vive per più di 90 anni tra il VI e il V secolo a.C. nato anche egli in Asia Minore. Allora Senofane è un aedo che scrive, si esprime in versi, ma canta ormai ed esprime idee filosofiche. Non narrare le lotte dei titani o dei giganti o ancora dei centauri, parti della fantasia dei primitivi. Falsi maestri poi sono Omero ed Esiodo, anche secondo Senofane, vedete, che hanno attribuito agli dèi di tutto e di più. Quanto presso agli uomini sono vergogne, biasimo rubare, fare adulterio, ingannarsi a vicenda, quindi al pari degli uomini comuni Omero ed Esiodo hanno idee inadeguate del divino e gli dèi del mito sono proiezione di caratteri che Nietzsche definirebbe umani, troppo umani. Un Dio soltanto, vedete, scrive Senofane, è tra gli dèi e tra gli uomini il più grande. tutto intero scorge, tutto intero concepisce, tutto intero ascolta. Quindi questo Dio Cosmo di cui parla Senofane è già altro rispetto alle divinità del mito. E veniamo adesso, Senofane ci consente di spostarci ad Elea, siamo qui nella zona del Cilento, colonia della Magna Grecia, Elea è patria di una delle scuole filosofiche più importanti dell'antichità appunto e qui parliamo di Parmenide, fondatore dell'Eleatismo della scuola di Elea e punto chiave di questa rivoluzione filosofica. E nel pensiero di Parmenide il distacco tra il Logos e il mito risulta evidentissimo. L'essere è e non può non essere. il nulla al contrario non è. Anche qui Parmenide cosa ha scoperto mi chiesi quando lo studiai per la prima volta e avevo soltanto 16 anni ma questa verità dell'essere cos'è in fin dei conti non sembra niente di che no a dirla così. In realtà ha delle implicazioni veramente enormi che impegneranno e impegnano ancora i filosofi tra cui Emanuele Severino che qui ricordo sicuramente mio grande maestro. Ma il punto fondamentale di questa verità dell'essere è che essa si mantiene salda e stabile non perché è pronunciata da un uomo venerando e terribile come Parmenide ma perché chi la nega si autocontradice quindi è una verità incontrovertibile proprio perché chi intende negarla si autonegano autonega il proprio discorso. Il cuore non tremante della verità ben rotonda dice Parmenide e per farlo scrive un poema filosofico in versi con il solito titolo tipico dell'antichità sulla natura per i Fiseos ma i versi di Parmenide sono molto brutti da leggere a dire la verità sono quasi prosa quindi lui utilizza quello che è il mezzo di comunicazione ancora in vigore possiamo dire però in realtà va già molto oltre quindi in questo caso come vedete è il logos filosofico ad essere rivelato dalla dea non più la cosmogonia mitica Parmenide certo poi utilizza delle immagini come quest'immagine del carro che simboleggia la ricerca filosofica i due sentieri della notte del giorno dell'errore della verità ma Parmenide ha già rovesciato il modo di pensare dell'epica basata appunto sul divenire su un'esposizione di fatti passati presenti o futuri come dice Platone e il pensiero di Parmenide nega proprio questo il tempo il divenire riducendo tutto all'eternità dell'essere quindi utilizzando ancora lo strumento della tradizione nei versi azzera le strutture poetiche tipiche dell'epica vicende umane divine cosmogonie teogonie e veniamo adesso all'asse portante della filosofia occidentale che è appunto Platone di Platone abbiamo tutti gli scritti ed è una cosa più unica che rara per un autore dell'antichità allora cerchiamo di provare brevemente a sintetizzare il pensiero di questo gigante di tutti i tempi allora qual è il guadagno fondamentale di Platone l'averci insegnato a salire lungo la gerarchia dell'essere a guardare la realtà con occhi nuovi quelli dello spirito e dell'anima gli occhi dell'intelletto Platone ci ha insegnato che c'è una dimensione più piena dell'essere una dimensione sovrasensibile appunto Platone è il salvatore del mondo voi direte ma che esagerazione chi è che può salvare il mondo faticano i messia delle religioni a salvarlo no? come può averlo salvato Platone ma perché il mondo che ci appare che è molteplice fatto di enti diversi il libro il microfono il foglio il tavolo il mondo che ci appare è molteplice diveniente muta diventa continuamente altro e l'eleatismo implica il collocare questo nostro mondo nella sfera del non essere poiché il libro non è l'essere no? il foglio non è l'essere le cose non sono l'essere e quindi il mondo che cos'è un'apparenza illusoria di cui parlano i mortali appunto dalla doppia testa no? che parlano indifferentemente di essere e di non essere no? dice Parmenide che pure forse ci aveva provato ma con scarso successo a rendere conto delle apparenze Platone invece ci riesce no? perché si rende conto che le cose sensibili quelle che ci circondano certo non sono l'essere ma non sono neanche il nulla assoluto sono a metà strada sono a mezza via sono contese appunto tra l'essere e il nulla e però il mondo sensibile non può essere fondato e spiegato solo sulla base di sé medesimo il suo fondamento va ricercato in una realtà più piena in un piano dell'essere diverso stabile eterno immutabile intelligibile e quindi Platone salva il mondo sensibile l'anima la polis in virtù del vero essere quel vero essere che sono appunto le idee essenze archetipi delle cose sensibili e dei nostri valori etici e politici in particolare poi al vertice dell'idea il bene uno supremo vertice della gerarchia dell'essere che Platone stabilisce e allora di Platone ricordiamo spesso più che il pensiero razionale i grandi miti le grandi immagini che lui costruisce a partire appunto dal mito che ho spiegato stamattina ai miei studenti di terze che qui ho citato il mito della caverna libro settimo della repubblica straordinario un mito in cui tutto il pensiero di Platone emerge in molteplici valenze ontologiche conoscitive etiche religiose perfino politiche pedagogiche e qui proviamo brevemente a dire che questa ascesa lungo la salita scabra ederta della caverna è una vera e propria conversione girare il capo dice Platone il prigioniero liberato è il filosofo che dai livelli più bassi della dogsa dell'opinione dai livelli più bassi dell'essere della conoscenza dalle ombre proiettate sul fondo della caverna sale fino ai gradi più alti fino agli enti del mondo superiore che rappresentano appunto la gerarchia degli enti sovrasensibili fino ad arrivare a contemplare il sole il sole è il bene uno principio supremo del tutto e qui Platone gioca da per suo con i termini e dice in questo passo del dialogo Apollo che divina superiorità Apollo è il dio del sole come ben sapete ma se noi usiamo l'alfa come privativo a polus a pollon no vuol dire il non molteplice vuol dire l'uno quindi per cui Platone dice l'uno che divina superiorità e questo percorso del nostro filosofo prigioniero liberato è anche politico perché certamente la conoscenza della verità da un lato purifica l'anima e ha la conseguenza di ispirare al bene al divino tutte le attività della vita e il ritorno del prigioniero nella caverna e il ritorno del filosofo politico che dopo il lunghissimo cammino dell'educazione teorizzato nella Repubblica cerca di salvare anche gli altri attuando nella polis il potere politico come supremo servizio e mettendo a repentaglio anche se stesso forse anche la propria vita addirittura quindi nella polis devono comandare dice Platone i seguaci della verità per eccellenza che sono i filosofi e il punto cardine è proprio questo che la salvezza tanto della polis quanto dell'anima individuale passa strutturalmente per la filosofia per la conoscenza del vero essere e veniamo ora ai grandi miti escatologici sui destini ultimi dell'anima qui certamente bisogna citare un dialogo intitolato Fedone ambientato nell'ultimo giorno di vita di Socrate che poco prima di bere la cicute e vedere eseguita la sua condanna morte discute nel dialogo platonico con i suoi discepoli sul tema dell'immortalità dell'anima corpo e anima realtà sensibile realtà intelligibile anche qui vita e morte il destino ultimo dell'anima dell'uomo e da questo passo emerge che è la cosa più conveniente di tutte per colui che è sul punto di intraprendere il viaggio verso l'altro mondo riflettere con la ragione e meditare attraverso i miti su questo viaggio e dire come immagina che esso sia e questi miti però non sono un salto nel vuoto sono sorretti dal logo sempre in Platone costituiscono una sorta di fede ragionata no? l'uomo sulla terra è solo di passaggio la vera vita è nell'aldilà dove alle anime a seconda dell'ora aver vissuto secondo giustizia e conoscenza può toccare una sorte molto diversa vice Platone e da qui i grandi affreschi di quello che tocca alle anime post-mortem che troviamo in molti dialoghi nel Gorgia nel Fedone nella Repubblica nel Fedro nel Timeo insomma i titoli sono tantissimi e questi miti hanno un ruolo fondamentale nell'economia del pensiero platonico senza dubbio come dice questo passo è il cuore del messaggio da prendere come veritiero quindi la sopravvivenza e la diversità di destini che tocca alle anime non tanto le immagini con cui il messaggio viene comunicato Platone però sa che queste immagini hanno un potere straordinario una forza persuasiva sono come vedete un magico incantesimo che bisogna fare a se stessi bello è questo rischio che però appunto non è un salto nel vuoto perché nel Fedone i due miti escatologici sono preceduti dalle dimostrazioni razionali dell'immortalità dell'anima che Platone incardina appunto sulla teoria delle idee e poi ancora adesso non li possiamo citare tutti certamente un altro mito molto famoso è quello del Fedro quello della biga alata mito in cui si parla anche qui dell'anima e c'è la connessione tra il ricordo delle verità eterne che l'anima ha contemplato prima di incarnarsi ed eros amore come desiderio di bellezza e di conoscenza quindi molti sono i miti in cui Platone tratta del destino delle anime e della complessa problematica della metempsicosi della reincarnazione delle anime e qui sempre nella Repubblica c'è il mito di Er il suo racconto potrà salvare anche noi e nel mito di Er si dice una cosa straordinaria che è l'anima partendo da ciò che ha sperimentato nella vita precedente che sceglierà il tipo di vita in cui reincarnarsi quindi in parole povere è la conoscenza del bene la conoscenza filosofica a garantire la scelta vincente sia per la vita terrena sia per quella ultraterrena vedete no appunto terremo sempre la via che porta in alto e praticheremo in ogni modo la giustizia unita alla saggezza e godremo della felicità su questa terra nel cammino di mille anni che l'anima compie e che abbiamo descritto veniamo adesso ad occuparci di questo rapporto tra mito e logos in Platone che è un rapporto molto complesso certamente allora Platone vive in un'epoca di passaggio di grande rivoluzione culturale in cui si affermano al posto dell'oralità poetico mimetica la filosofia e la scrittura come nuove tecniche di indagine e comunicazione e tra queste nuove tecniche per Platone il primato non spetta in realtà alla scrittura ma all'oralità dialettica e questo è quello che eredita dal suo maestro Socrate certamente e Platone si occupa di questo tema nel già citato Fedro e nella lettera settima la scrittura la scrittura è una forma di mythologain dice Platone quasi come un gioco ciò nonostante Platone scrive scrive tanto scrive molto bene e allora per capire questo rapporto che c'è tra il mito e il logos in Platone la chiave sta proprio nella ricerca della verità no? è per questo che Platone polemizza contro la poesia di Omero di Esiodo ma anche contro la tragedia la commedia polemizza contro quei miti pre-filosofici e sganciati dal logos no? possiamo dire al tempo stesso però un grande amante del mito e della poesia ne vuole creare una nuova una poesia filosofica potremmo chiamarla così Platone certamente condanna la poesia il mito della tradizione perché sganciati dalla verità ma egli stesso è grande pensatore grande poeta e creatore di miti appunto straordinario filosofo poeta che sa bene come il pensare per immagini possa agire in maniera sinergica con il logos e certo il logos così come il mito possono essere buoni al servizio della verità ma anche cattivi il logos cattivo è quello dei sofisti che non ha come scopo la verità ma l'arte di far trionfare una tesi soprattutto nella seconda sofistica l'eristica ma anche la poesia il mito possono essere cattivi e nocivi e questo Platone ce lo dice nella Repubblica nel libro decimo in cui prende le distanze da Omero nonostante la riverenza che sin da ragazzo l'ammirazione che ha avuto per lui ma un uomo non va onorato più della verità dice Platone e quindi avremmo ragione di criticarlo il poeta imitatore di paragonarlo al pittore che è lontano dalla verità innanzitutto il poeta non è tale per scienza e conoscenza ma per divina ispirazione la poesia certa è una forma di mania divina o di invasamento divino è una forza enorme come quella del magnete dice Platone in altri dialoghi ma i poeti parlano senza conoscere ciò di cui parlano certo la poesia e tutto il patrimonio mitico hanno un grande potere una magia che se non sono però legati al logos veritativo possono essere più nocivi e diseducativi che altro dice Platone in quanto possono appunto risvegliare alimentare fortificare le parti peggiori dell'anima distruggendo quella razionale per questo bisogna tenerli sotto controllo in questo stato ideale teorizzato nella repubblica quindi l'educazione e la poesia che ne costituisce una parte importante devono essere asservite al vero e alla ricerca del vero e le favole e i miti vanno misurati alla luce dell'idea del bene dice Platone vedete fino ad oggi ne io ne tu siamo poeti ma fondatori di uno stato e chi fonda uno stato non è tenuto a ideare lui stesso dei racconti mitologici ma ad averne chiaramente le linee direttive tenere d'occhio gli inventori delle favole quando ne inventassero una bella la approveremmo invece delle favole che oggi si raccontano parecchie sarebbero da buttare è certo i miti le favole la poesia devono essere purificati da quei gravi inganni dagli effetti morali deleteri che possono avere sull'animo dei giovani dice Platone perché presentano gli dèi e gli eroi come prede di comportamenti eticamente riprovevoli diseducativi in questo però Platone non chiude totalmente la porta alla poesia e al mito progetta un mito e una poesia nuovi appunto quindi il mito buono legato alla filosofia va benissimo dice Platone lui stesso è appunto un grande creatore di miti quello lontano dal vero e rivolto alla parte peggiore dell'anima va eliminato dallo stato ideale e allora vedete che le linee interpretative su questo tema sono molteplici da quella hegeliana che dice che in Platone bisogna depurare la parte filosofica dai miti ma io ho sposato qui l'interpretazione di un grande studioso di Platone che è Giovanni Reale che utilizza una frase bellissima logos e mito sono come le sistole e le diastole del cuore del pensiero platonico quindi certamente il mito e il logos quando sono agganciati saldamente alla ricerca della verità hanno una funzione complementare il mito come un pensare per immagini certo è complementare al pensare per concetti proprio del logos dialettico e allora e mi avvio il più brevemente possibile verso la conclusione potremmo chiederci questo oggigiorno è giusto a servire tutto l'arte la poesia ma anche la polis e l'intera vita dell'uomo a questo bene assoluto di cui parla Platone è desiderabile questa sua utopia antidemocratica della filosofia e dei filosofi al potere certo a qualcuno la posizione di Platone può apparire come totalitaria dal punto di vista politico e totalizzante nei confronti di forme espressive come il mito l'arte la poesia a cui oggi noi riconosciamo senz'altro una loro autonomia forse però non è completamente da disprezzare la posizione platonica forse non è così sbagliato vagliare mediante il logos e il concetto le varie forme di mito e di favola e qui mi rifaccio a un filosofo molto più recente che è Ernst Cassirer grande filosofo tedesco di origine ebraica che si forma alla scuola neocantiana di Marburgo e come molti altri intellettuali del novecento ha vissuto proprio in prima persona lo sradicamento dovuto alle persecuzioni razziali del nazismo emigrando prima ad Oxford poi in Svezia e infine negli Stati Uniti allora Cassirer è un grande studioso del mito il mito non è un caos in forme ma è una forma fondamentale dello spirito umano è una forma simbolica dice Cassirer il mito come il linguaggio la religione l'arte la scienza è una delle forme simboliche attraverso cui lo spirito umano dà forma e senso al reale e Cassirer qui porta avanti quella rivoluzione copernicana che canta avviato in ambito gnoseologico e non solo estendendola a tutta la varietà della vita culturale dell'uomo quindi lo spirito umano attraverso le sue forme simboliche non si limita a riprodurre la realtà come uno specchio ma ha appunto un ruolo attivo e fondativo le singole forme simboliche divengono così non imitazione della realtà ma organi di essa solo per mezzo loro il reale può divenire in quanto tale visibile scrive Cassirer ma in un testo che gli termina poco prima di morire e che si intitola il mito dello stato e che viene pubblicato postumo nel 1946 e gli traccia un'analisi che ci sorprende da un certo punto di vista perché va da Platone a Hitler e chiama in causa il rapporto tra mito e politica e allora dice Cassirer in politica il terreno è molto labile viviamo su un terreno vulcanico scrive proprio e il testo a cui faccio riferimento appunto questo qui il mito dello stato è stato mentre negli altri ambiti il mito è stato superato da altre forme dello spirito umano in politica rinasce continuamente e qui può diventare pericoloso la preponderanza del pensiero mitico sul pensiero razionale in alcuni dei nostri sistemi politici moderni è evidente scrive Cassirer quando si tratta dell'azione politica sembra che l'uomo segua norme del tutto diverse da quelle riconosciute in tutte le sue attività meramente teoretiche e il mito rinasce in politica non però nella forma dei miti classici che in qualche modo contenevano erano volti al proprio superamento a depurarsi sempre di più delle scorie irrazionalistiche ma rinasce quasi più simile a delle forme di magia primitiva se l'uomo di oggi non crede più in una magia naturale non ha affatto rinunciato a credere in una sorta di magia politica e sociale certo non è che ci affidiamo ai sortileggi primitivi o ispezioniamo le viscere o cerchiamo di interpretare il volo degli uccelli ma vedete che in politica questa forma potremmo chiamarla di irrazionalismo è ben presente dice Cassirer i politici moderni sanno benissimo che le grandi moltitudini sono mosse molto più facilmente dalla forza dell'immaginazione che non dalla pura forza fisica l'uomo politico diventa così una specie di pubblico negromante la profezia un elemento essenziale della nuova tecnica di governo vengono fatte le premesse più improbabili o addirittura impossibili l'età dell'oro viene annunciata di continuo e sfocia poi in catastrofe potremmo aggiungere guardando agli eventi del novecento in cui il mago dell'uomo di oggi è il dittatore il duce politico ad un tempo mago e profeta possiamo dire che si pone come depositario del senso ultimo della storia e esercita la propria azione sulle masse sfruttando il loro desiderio di potenza e di semplificazione è certo tornando a Platone scrive Cassirer egli creò i propri miti con uno spirito del tutto libero li dirigeva secondo i suoi propri intenti ma il mito autentico non possiede questa libertà filosofica non considera le proprie immagini come simboli ma come realtà una realtà che non può essere respinto criticata deve essere accettata in modo passivo ma i miti classici portano verso una nuova meta quindi a quella forma di pensiero che è la filosofia che non li accetterà più acriticamente finendo come abbiamo visto per scuotere la piazzaforte del pensiero mitico fin dalle fondamenta mentre i miti politici moderni portano alle illusioni di massa e appunto alle catastrofi del novecento e certo la conclusione di Cassirer è un po' amara o sicuramente distruggere i miti politici è impresa che supera le possibilità della filosofia in un certo senso il mito è invulnerabile ma la filosofia può farci comprendere l'avversario e non farcelo sottovalutare soprattutto e quindi forse non è così sbagliato passare ancora sempre il mito al vaglio del logos soprattutto quando le immagini mitiche sono frutto di interessi che è giusto mettere in discussione interessi magari economici propagandistici o ancora come nel caso del secolo breve del novecento di dominio dell'uomo sull'uomo quindi il pensiero affabulante va benissimo senza dubbio ma deve rimanere purché rimanga pensiero e non diventi mera affabulazione io ho finito vi lascio qui qualche minuto proiettato una breve bibliografia di cui mi sono servito per il mio intervento e intanto passo la parola a Nicola buonasera a tutti e grazie di cuore Antonio per questo ricco excursus storico-filosofico che ci ha permesso di gettare uno sguardo sulla complessità e sugli intrecci che intercorrono tra il pensiero filosofico propriamente concettuale e il pensiero affabulante ora come avrete intuito dall'abstract della nostra conferenza abbiamo pensato di strutturare questa riflessione in due momenti centrali il primo di ordine propriamente storico-filosofico-teoretico-concettuale insomma che è quello di cui abbiamo appena sentito parlare mentre il secondo momento lo potremmo definire come una sorta di filosofia applicata cioè tenteremo di vedere un caso specifico in cui una determinata filosofia ha tinto a piene mani dal pensiero affabulante questo caso specifico si concretizza in un libro in un'opera che oggi qui tenteremo di presentare permettetemi la battuta la presentiamo con un con un ritardo davvero poco perdonabile perché per la prima volta questo testo è stato pubblicato a Berlino nel 1930 stiamo parlando delle tracce le spuren di Ernst Bloch che Antonio ha gentilmente proiettato qui alle mie spalle ecco ed Ernst Bloch si vede quindi sulla sinistra dello schermo e testo che fra l'altro viene tradotto in italiano con un notevole ritardo nel 1994 grazie alle cure di Laura Boella filosofa che neanche farlo apposta all'unidì scorso era qui a Ferrara al teatro comunale in occasione della giornata internazionale delle donne chi è Ernst Bloch ora qualche etichetta a puro scopo comunicativo Ernst Bloch è stato un filosofo contemporaneo 1885 1977 sono le due date i due estremi della sua vita lunga vita perché è morto all'età di 92 anni ed Ernst Bloch è stato un filosofo tedesco ebreo ateo e marxista ovviamente per ognuna di queste etichette potremmo aprire un seminario qui ci bastano a puro scopo indicativo ed è solitamente conosciuto come il filosofo dell'utopia e della speranza perché le sue opere più celebri sono appunto il Geist dell'utopia lo spirito dell'utopia e il Das Prinzip Hoffnung il principio speranza ecco quando noi ci troviamo tra le mani questo testo probabilmente rimaniamo un po' spiazzati perché ci aspettiamo leggendo l'autore Ernst Bloch un testo di natura filosofica ma poi lo apriamo e non assomiglia per nulla a un trattato filosofico è piuttosto una sorta di coacervo di piccole storie della tradizione popolare tedesca leggende miti fiabe aneddoti personali e pensate che quando è stato pubblicato dopo tre mesi non aveva venduto neppure cento copie e la cosa che però ci sorprende è che quando Ernst Bloch ormai anziano decide di riordinare tutte le sue opere in una sola e unica opera omnia in una Gesamtausgabe appunto in tedesco decide di mettere al primo posto come primo volume proprio le spuren le tracce pur non essendo un ordine corretto dal punto di vista cronologico perché non è la prima opera che ha scritto Bloch però sembra quasi volerci dire Bloch che se noi vogliamo entrare nella filosofia della speranza passando per la porta principale dobbiamo proprio attraversare questo pensiero affabulante e perderci nei meandri di queste pagine e di queste fiabe ecco prima di entrare in questo gioco perché qui tenteremo proprio di vedere concretamente alcuni di questi racconti di capire come si intersechino all'interno del pensiero e della filosofia di Bloch tentiamo qui di mettere in luce il cuore pulsante della filosofia della speranza ora qui non voglio non voglio trarre in inganno nessuno ovviamente la filosofia di Bloch come la filosofia di tantissimi autori del novecento è una filosofia estremamente complessa Bloch ha scritto oltre 6.000 pagine delle sole opere monografiche e sa ovviamente scrivere in un linguaggio filosofico estremamente tecnico spazio con disinvoltura all'interno di tutte le categorie della filosofia occidentale ecco però è possibile individuare un nucleo pulsante del suo pensiero attorno al quale lui continua ad annodare la sua ricchissima matassa di concetti ecco questo nucleo centrale lo possiamo esprimere in una frase ovviamente dal suono provocatorio come tante delle frasi di Bloch che potrebbe essere la seguente ecco per Ernst Bloch l'uomo non ha speranza l'uomo è speranza per Bloch l'uomo è speranza perché non fa altro che desiderare produrre sogni ad occhi aperti utopie l'uomo è un instancabile distributore automatico di speranze quotidiane ma per quale motivo l'uomo non fa altro che desiderare ecco questo motivo Bloch tenta di spiegarcelo in tutta la sua filosofia e con tante espressioni diverse un'espressione molto curiosa Bloch la individua in uno scritto di un suo carissimo amico che di nome fa Bertolt Brecht quindi avrete già intuito che si tratta di un'espressione pescata non dal linguaggio filosofico quanto piuttosto da quello teatrale infatti Brecht nella sua opera Ascesa e caduta della città di Magonni scrive a più riprese in alcune pagine etwas felt manca qualcosa quando Bloch legge manca qualcosa etwas felt monta su tutte le furie filosofiche si innamora di questa espressione perché è il motivo stesso per cui l'uomo desidera perché ci manca qualcosa ci manca sempre costantemente instancabilmente qualche cosa nella nostra vita e questo è il motivo che ci spinge a sognare costantemente ad occhi aperti senza mai un attimo di tregua e Bloch ci consegna anche un grande esempio che appartiene alla vita di tutti noi da vacanzieri da conferenzieri da lavoratori ecco a noi tutti sarà capitato di abbandonare almeno una volta nella vita una camera d'albergo ecco mentre la stiamo per lasciare quella camera d'albergo immancabilmente proviamo una sensazione di mancanza cioè temiamo di avere dimenticato qualche cosa e allora iniziamo a frugare nei cassetti guardiamo sotto le coperte diamo una sbirciata anche sotto il letto per vedere se è caduto qualcosa insomma alla fin fine non troviamo nulla ci avviciniamo alla porta sempre con quell'ansia che non ci abbandona poi mettiamo le mani in tasca per verificare quantomeno di avere il portafoglio di avere le chiave della macchina ora ovviamente l'immancabile smartphone e soprattutto l'immancabile mascherina e possiamo uscire dalla camera dell'albergo e tirarci dietro la porta ma Bloch dice attenzione perché comunque quella sensazione non vi abbandona neanche quando avete chiuso la camera d'albergo perché ce l'avete addosso proprio è connaturata la vostra antropologia ecco il motivo per cui desiderate ovviamente Bloch che è il filosofo dell'utopia e della speranza aveva già maturato altre espressioni prima di questo Etwasfeld dell'amico Bertolt Brecht infatti ancora agli anni degli studi universitari Bloch ha un'intuizione filosofica un'intuizione che poi gli garantirà anche la simpatia di Simmel che gli permetterà di seguire il grande filosofo tedesco di seguire un suo seminario privato è un numero chiusissimo a Berlino ecco l'intuizione che ha Bloch è questa è un'espressione dall'eco sfacciatamente freudiana è quella del non ancora conscio che cos'è il non ancora conscio che ci aiuta sempre a spiegare perché l'uomo non faccia altro che desiderare siamo sempre sullo stesso punto ovviamente ecco il non ancora conscio non è ovviamente ciò che è conscio non è ciò che di fronte ai nostri occhi di cui siamo perfettamente consapevoli ma non è neppure l'inconscio non è un ricordo sepolto nella cantina della nostra coscienza ecco il non ancora conscio è qualche cosa di più paradossale cioè qualche cosa di cui noi non siamo consapevoli ma di cui avvertiamo la mancanza perché preme per emergere è un po' come se dietro l'angolo di una strada ci fosse una presenza noi non riusciamo a vedere quella presenza ma la presentiamo cioè la sentiamo in anticipo noi avvertiamo che c'è ma non la conosciamo e la vogliamo vedere magari con attesa e inquietudine ma siamo desiderosi di vederla quella presenza ecco se non è chiara la prima espressione di etwas felt quindi della mancanza di qualche cosa se non è chiara questa espressione di stampo psicanalitico per capire il perché l'uomo sia un distributore automatico di speranze quotidiane c'è un'altra espressione ancora dal profumo chiaramente esistenziale che utilizza Ernst Bloch che è quella dell'oscurità dell'attimo vissuto che cos'è l'oscurità dell'attimo vissuto in che senso l'attimo che noi stiamo vivendo è oscuro caspita potremmo ribattere noi Ernst Bloch il passato è oscuro perché sappiamo che non riusciamo mai a metterci d'accordo su una sola pagina di un libro di storia che viene colpito con l'accetta dei revisionismi ogni giorno che passa per antonomasia il futuro è quanto di più oscuro possiamo prevedere perché per sfortuna ma forse anche per fortuna non ci è data la sfera di cristallo ma almeno l'immediato presente l'attimo nella sua immediata chiarezza ce lo devono lasciare così terzo com'è e Bloch invece scuote la testa e ci dice no purtroppo l'attimo vissuto è oscuro per antonomasia perché è talmente vicino a noi l'attimo vissuto ed è talmente veloce che non riusciamo a metterlo a fuoco e quando ci proviamo è già passato è già trascorso è come un pesce cerchiamo di agguantarlo quando ormai lo sentiamo tra le mani ci guizza tra le dita questo è l'attimo oscuro e per farcelo capire meglio Bloch ci consegna anche una metafora una metafora che sembra presa già questa dalle fiabe che è quella della lampada Bloch ci dice provate a pensare a una lampada la lampada è il simbolo della conoscenza per eccellenza rischiara l'ambiente l'aufklärung il rischiaramento l'illuminazione l'illuminismo è il simbolo della conoscenza proietta luce sì ma la lampada paradossalmente proietta anche un'ombra e l'ombra la proietta in che luogo proprio nel punto più vicino alla luce il piedistallo della lampada è all'ombra ecco il nostro piedistallo cioè la parte a noi più vicina la parte strutturale di noi stessi si trova nell'ombra come dice quel grandissimo poeta che è Octavio Paz che è stato Octavio Paz premio Nobel per la letteratura in un bellissimo testo che è apparenza nuda noi siamo indigeni della terza dimensione abitiamo la penombra e viviamo tra le apparenze abitiamo la penombra è quello che ci fa capire Bloch la parte strutturale più importante di noi stessi si trova nell'ombra ed è proprio da quell'ombra da quella nudità tremante da quello spazio vuoto che noi non conosciamo da quel mistero è da lì che scaturiscono e che scattano tutte le scintille della speranza dei desideri dei sogni d'occhi aperti questo è lo sperare per Ernst Bloch o la matrice meglio ancora dello sperare ecco bene ora la finiamo con le chiacchiere filosofiche ed entriamo nel vivo delle fiabe perché Bloch questa cosa ce la racconta anche attraverso una fiaba una fiaba della tradizione popolare tedesca che raccoglie nelle tracce in questo testo che oggi presentiamo e che intitola quadro con arco e questa fiaba ci narra proprio la storia di un povero contadino tedesco che nel sonno sente una voce una voce che gli suggerisce che sotto il secondo pilone dell'antico del vecchio ponte di Praga è celato un tesoro ecco il nostro contadino con una reazione che noi non esiteremo a definire impulsiva scatta sull'attenti nel cuore della notte prepara armi e bagagli e si incammina verso la lontanissima Praga cammina giorni e notti finché finalmente non giunge nella città magica no è arrivato a Praga trova il vecchio ponte e chiesto il permesso all'anziano custode del ponte di scavare inizia la sua opera ovviamente sotto lo sguardo vigile incuriosito del custode e quindi scava 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 instancabilmente e dopo tre giorni finalmente non trova nulla non trova nulla e decide di arrendersi di tornare a casa non prima ovviamente di aver subito gli epiteti e lo scherno dell'anziano custode che ovviamente lo rimprovera ma cosa ti è saltato in mente tu senti una voce nel sonno e attraversi mezza Europa ma scusami ma a tutti capitano queste cose ma mica siamo fessi come te anche io tanti anni fa ho sognato una voce che mi diceva che in quel paese in quella via in quella casa sotto la stufa si trovava un tesoro ma mica sono stato così così ingenuo da crederle ecco il nostro contadino che ha ascoltato molto attentamente il custode si incammina per fare ritorno a casa che come vogliono le fiabe si trova proprio in quel paese in quella via di cui gli ha parlato l'anziano custode arrivato a casa si precipita in salotto sposta la stufa prende il piccone apre un varco nel pavimento e lì questa volta veramente trova il tesoro cosa vuole dire questa fiaba vuole dire esattamente quello che ci ha raccontato Bloch fino ad ora vuole dire che il nostro mistero il mistero della nostra esistenza è sotto i nostri piedi è nel punto a noi più intimo è nel focolare domestico è da lì che montano i desideri poi ovviamente e questo ce lo dice anche la storia del pensiero occidentale che parte da quel gnotis eutton dall'oracolo delfico conosci te stesso per conoscere noi stessi dobbiamo fare magari anche il giro del mondo però il mistero che dobbiamo scoprire è lì dentro di noi è sotto il pavimento della nostra stufa ecco bene ma come adesso che abbiamo appurato che quindi dentro di noi c'è un mistero tremante che aspetta di emergere ed è quello che ci spinge a cercare sempre qualunque cosa nella vita desiderare costantemente in modo febbrile ecco come facciamo però a indagarlo questo mistero è proprio qui che entra in gioco il linguaggio affabulante perché ovviamente è indispensabile la filosofia ma non è sufficiente non è sufficiente il linguaggio rigoroso della filosofia occorre anche un linguaggio più flessibile che come ha anticipato Antonio certamente vada a braccetto con la filosofia e con la ragione ci mancherebbe però la capacità e la caratteristica del linguaggio affabulante è quella proprio di avere una flessibilità che gli permette di insinuarsi negli anfratti del quotidiano nelle cavità della nostra esistenza e nelle fiabe troviamo proprio quello stupere e quella meraviglia da cui nasce la filosofia e la riviviamo ogni volta che raccontiamo o che ascoltiamo narrare una fiaba ecco e per mostrare la strettissima connessione che intercorre tra la nostra vita tra il nostro immediato presente e il mondo delle fiabe che ovviamente sembra proiettato molto lontano da noi in un'altra dimensione Bloch ci racconta un'altra storiella questa volta dall'ambientazione chiaramente ebraica perché si svolge in una sinagoga in una casa di preghiera dove dopo una lunga giornata di riflessione e di meditazione tre ebrei decidono di riposarsi fantasticando per qualche minuto sul desiderio che loro potrebbero e vorrebbero esprimere di fronte all'avvenuta e all'arrivo di un angelo e inizia il rabbino con il suo primo desiderio e dice ah se io mi trovassi di fronte a un angelo gli chiederei subito di liberarmi da questa fastidiosissima tosse il secondo ebreo invece avrebbe tanto voluto un marito per le proprie figlie infine il terzo ebreo anziché delle figlie avrebbe proprio voluto avere un figlio maschio per portare avanti gli affari di famiglia terminato questo giro di fantasticherie il rabbino rivolge l'attenzione ad un mendicante che siede cencioso nell'angolo della sinagoga e rivolge anche a lui lo stesso gioco lo coinvolge e dice e tu tu che cosa desidereresti di fronte ad un angelo già che sicuramente tu non hai l'aspetto di qualcuno che non abbia nulla da desiderare ecco infatti il mendicante che per antonomasia non aveva nulla inizia con la fantasia più grande di tutte con il desiderio più iperbolico ah io vorrei essere il re di un grande paese in ogni città avrei un palazzo e nella più bella farei costruire la mia residenza tutta di marmo e legno di onice e sandalo sarei amato dal mio popolo e temuto dai nemici proprio come il re salomone poi però e qui il mendicante cambia registro linguistico e inizia a parlare al presente poi però in guerra non ho la stessa fortuna che ha avuto il re salomone i nemici sconfiggono il mio esercito invadono le mie terre e giungono fin sotto le porte del mio palazzo io vengo abbandonato da tutti mi ritrovo da solo nella sala del trono con la porpora il mantello e la corona e sento il mio popolo che grida a gran voce la mia testa a quel punto terrorizzato mi spoglio di tutto rimango solo in camicia mi calo dalla finestra inizio a correre 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 corro instancabilmente fino a quando dopo giorni e giorni giungo in un luogo dove non mi riconosce più nessuno finalmente sono al sicuro e da ieri sera sono qui ecco quindi c'è un momento di gelo di silenzio che viene rotto solo dopo un po' dalla voce tremante del rabbino che dice caspita ma sei proprio un uomo singolare ma da tutto questo desiderio che cosa avresti ricavato beh almeno avrei una camicia dice quasi rispondendo con un motto di spirito e poi simbolicamente un'altra camicia gli viene omaggiata dai presenti ecco che cosa significa questa storia così particolare che ci racconta Bloch ecco significa che la fiaba sembrava così lontana il desiderio così remoto invece era qui sembrava in un futuro immaginario invece era nel presente no ricade immediatamente nell'ichet nunc nel qui e nell'ora noi guardavamo in un futuro immaginario invece abbiamo sentito bussare velocemente alla porta che era alle nostre spalle no questo è il legame misterioso che intercorre ovviamente è un legame simboleggiato in questa in questa fiaba in questa storiella però il legame profondo che intercorre tra il sogno e la realtà perché senza sogni la realtà sarebbe affossata in un presente non sarebbe realtà cioè la realtà paradossalmente è costituita strutturalmente di sogni altrimenti sarebbe una fotografia morta non avrebbe modo di evolvere la realtà ecco è quello che va sempre evidenziato però quando si parla di sogni di fantasie di desideri e soprattutto di speranza in Ernst Bloch ecco è che Bloch non ha un'immagine ingenua della speranza Bloch è ben consapevole che la speranza possa andare delusa possa essere tradita possa essere fallimentare altrimenti non sarebbe speranza sarebbe una certezza ecco fra l'altro Bloch non scrive il principio speranza la sua opera di 1600 pagine in panciolle su un divano e in una casa borghese la scrive dopo essersi trovato come ebreo ateo e marxista ed era veramente un tris terribile mentre montava il nazionalsocialismo in Germania si è trovato a fuggire in tutta Europa poi è riuscito ad esiliare a fatica negli Stati Uniti d'America dove non ha trovato però alcun riconoscimento intellettuale quindi ha scritto quasi nell'indigenza ha ottenuto la sua prima cattedra universitaria alla veneranda età di 64 anni e dopo qualche anno ha subito un'altra grande delusione perché si trovava all'Ipsia dove era stato accolto con tutti gli onori del caso e poi invece si trova a sostenere un tipo di marxismo e di comunismo dal volto umano che non era assolutamente accettato dalla nomenclatura sovietica e nella Germania dell'Est insomma quindi lui veramente ha tribolato tantissimo nel suo percorso filosofico quindi è consapevole assolutamente che la speranza e anche la fiaba possa essere fuoriera di illusioni e così ci racconta un'altra storiella che qui semplicemente accenniamo per mettere in evidenza anche l'aspetto fallimentare della speranza e questa storiella ci narra di un giovane ragazzo che passeggia per le vie del paese e viene avvicinato da un'anziana signora che gli chiede di seguirlo perché gli vuole mostrare una cosa che gli piacerà moltissimo il ragazzo incuriosito non riesce a resistere quindi segue l'anziana signora che effettivamente lo porta di fronte ad una residenza molto sontuosa e apre la porta di questa residenza una bellissima e giovane dama che si fa seguire dal ragazzo e inizia a sedurlo prima lo bacia poi si fa seguire in un labirinto di corridoi e stanze insomma e in un crescendo di tensione erotica il ragazzo alla fine si ritrova nudo a pochi centimetri da questa ragazza e quando ormai sta per toccarla scivola su un tappeto e come in un terribile maleficio questo tappeto sprofonda nel pavimento il ragazzo cade nel centro del mercato del paese ubriaco e dice Bloch nudo come Dio l'ha fatto e viene ovviamente deriso da tutti ecco questa è la secchiata di acqua fredda che ci possono dare le fiabe che ci può dare la narrazione affabulante che ci può dare il mondo del mistero e della speranza questo è innegabile ma ci ricorda Bloch ciò nulla toglie al potere evocativo delle fiabe a quello che Bloch con il suo linguaggio poetico definisce il probiren der zone l'assaggio del sole questa è la metafora l'assaggio del sole una metafora che è in grado di coniugare il potere della conoscenza il sole come metafora della conoscenza con la forza della fiaba attraverso la fiaba noi addirittura possiamo assaggiarlo il sole questo potere luminoso del sole e in questa forza della narrazione affabulante quello che ci tiene a ricordare Bloch è che noi possiamo questo assaggio questa esperienza la possiamo fare nella nostra vita quotidiana cioè la speranza sa essere fallimentare ma sa essere anche concreta cioè se noi ci guardiamo attorno nella vita di tutti i giorni con uno sguardo minimamente romantico probabilmente siamo in grado di cogliere quelli che Bloch definisce i foie shine le preilluminazioni di agostiniana memoria insomma per chi ha masticato un po' di filosofia ma ad ogni modo che cosa sono questi foie shine queste anche preapparizioni se vogliamo così definirle tradurle ecco sono dei momenti di stupore in assoluto legati a delle cose molto semplici magari banali ma inattese ci può capitare ad esempio in una passeggiata di vedere una foglia librata nel vento magari in un contesto autunnale molto piacevole possiamo sentire una melodia che monta dal nulla e che non ci aspettavamo oppure vedere il sorriso di un bambino o lo sguardo d'intesa di una bellissima ragazza ecco questi sono i momenti piccoli dettagli che ci lasciano presagire qualche cosa d'altro rispetto agli schemi logici che ordinano la nostra vita quotidiana e proprio parlando dell'importanza del dettaglio sia nel bene che nel male Bloch ci narra un'altra fiaba quella del visir che racconta appunto di un visir che passeggia nel giardino della sua bellissima residenza e va a visitare la nuova fontana e proprio mentre contempla il proprio riflesso sullo specchio dell'acqua ricorda i grandi momenti della sua vita i favori del califo e le imprese gloriose che hanno caratterizzato la sua esistenza ma in quel momento l'anello a cui è più affezionato gli scivola dal dito e sta per cadere in acqua ecco il visir esprime in modo inconsapevole involontario un desiderio impossibile cioè che l'anello non cada dentro l'acqua ma l'anello è già quasi caduto dentro l'acqua eppure come capita nelle fiabe avviene l'impossibile il miracolo violando ogni legge fisica l'anello si ferma esattamente sulla superficie dell'acqua ora qui la fiaba diventa più astrusa dal punto di vista psicologico perché il visir anziché essere contento di questo fenomeno si preoccupa viene assalito da un'improvvisa angoscia perché pensa sentite un po' è impossibile che un evento così fortunato non abbia delle conseguenze terribili per una sorta di legge non so del contrappasso dantesco potremmo immaginarci è capitata una cosa bellissima ne deve capitare un'altra invece contraria e infatti da lì a pochissimo arrivano in rompono nella residenza del visir le guardie e lo arrestano perché dei suoi calunniatori l'avevano avuta vinta e il visir in un istante perde tutti i suoi beni viene gettato in carcere e lì inizia ad invecchiare senza alcuna speranza di riscatto e ormai prossimo alla morte capisce di non avere altre speranze esprime un ultimo desiderio prima di morire il visir vorrebbe assaggiare ancora una volta il sapore del melograno ecco una guardia impietosita gli procura qualche chicco di questo frutto e glielo passa nella cella attraverso un piattino in questo momento sta per capitare il contrario dell'avvenimento della fontana infatti al visir cade di mano il piattino il melograno questi pochi chicchi si spargono sul pavimento un topolino sbuca dal muro e in 4 e 4 8 sbrana tutti i chicchi di melograno ecco e il visir questa volta anziché provare disperazione prova un profondo senso di sollevo perché pensa caspita è impossibile che a fronte di una sfiga del genere di un accumulo di un intreccio di eventi così sfavorevoli non debba tornarmi in cambio qualcosa di buono non debba capitare qualche cosa di provvidenziale e infatti da lì a poco le guardie scortano nella cella del visir niente poco di meno che il califo in persona perché i suoi calunniatori erano stati finalmente smascherati e il visir viene reintegrato di tutte le sue cariche e di tutti i suoi beni cosa vuol dire questa fiaba ovviamente come tutte le fiabe può voler dire tantissime cose perché non è una favola e alla fine non c'è una morale didascalica ecco quello che nota Bloch è la funzione del piccolo il piccolo dettaglio l'anello che si ferma sull'acqua i chicchi di melograno che non riescono ad essere assaporati dal visir può avere una funzione strutturale stravolgente nel corso delle cose e la funzione meccanica di ciò che è piccolo dice Bloch è la goccia che fa traboccare il vaso quindi alle volte nella nostra vita sono i piccoli dettagli ad avere una funzione trasformativa stravolgente e Bloch da grande hegeliano quale è prima avete sentito più interventi di hegel tant'è che Bloch scrive a proposito di un linguaggio poco affabulante e molto concettuale Bloch scrive anche soggetto oggetto commento ad hegel che è una grandissima opera di riflessione sul pensiero di hegel ecco quindi Bloch che conosce bene hegel dice che un bel mattino hegel si sveglia con la semplicissima intenzione di scrivere un semplice prontuario un semplice manuale che ci descrive il passaggio dalla coscienza comune al sapere filosofico ecco ne viene fuori la fenomenologia dello spirito da questa piccola intenzione che probabilmente è una delle più grandi sicuramente forse la più grande o quantomeno una delle più grandi opere filosofiche mai scritte nella storia del pensiero occidentale ecco quindi ecco quello che si può ridare nel piccolo e tant'è che ci sono anche due detti complementari il diavolo si cela nel dettaglio o Dio si cela nel dettaglio ecco li troviamo entrambi nella fiaba del visir il diavolo si celava in quell'anello che si è fermato nell'acqua perché ha generato una sfortuna enorme ed Dio magari si celava nel chicco di melograno che ha ovviamente in modo molto metaforico riscattato ha rappresentato il momento dell'inizio del riscatto del visir ecco ma a questo punto Bloch vuole aumentare la posta in gioco dice abbiamo parlato di fiaba abbiamo parlato di filosofia ma dimostriamolo sulla nostra esistenza che questa cosa è vera parto da me ma magari dopo pensateci anche voi se non sono i piccoli dettagli che hanno trasformato il corso della vostra esistenza e così Bloch ci raccontano una cosa simpatica che gli è capitata e senza la quale non staremo qui oggi a parlare di Ernst Bloch questa cosa che cosa è stata ecco lui termina a fatica gli anni del liceo ottiene una maturità in modo maledettamente difficile perché è stato bocciato anche in terza superiore Ernst Bloch odiava il suo liceo e decide di prendersi un momento di riposo con i genitori vanno in vacanza in Svizzera in un paesino e giunti nell'albergo ecco sono pronti ormai ad andare a letto e Bloch dalla finestra intravede una statua una sorta di mausoleo che lo incuriosisce così la mattina appena sveglio va a fargli visita no e si trova di fronte alla statua di un uomo no con un effigie qui riposa Georg Friedrich Wilhelm Schelling il grande idealista tedesco e amico di Hegel questo monumento gli resse in eterna riconoscenza all'amico fedele suo discepolo Massimiliano II re di Baviera caspita in quel momento arriva di fianco a Bloch il padre e anche il padre si trova di fronte a questo monumento ed è in quel preciso momento che il padre intuisce per la prima volta in vita sua che in fondo anche un filosofo poteva diventare qualcuno nella vita di fronte al monumento di Schelling a patto ovviamente che si fosse impegnato ben più di quanto non avesse fatto fino a quel momento il figlio ecco quindi Bloch senza inciampare in modo letteralmente casuale nel nel mausoleo nella tomba di Schelling non avrebbe mai potuto iscriversi alla facoltà di filosofia neppure passando sul cadavere di suo padre che da buon impiegato delle ferrovie bavaresi nulla sapeva di filosofia e non aveva alcuna sensibilità umanistica ecco ma non è finita qui quindi Bloch riesce grazie a questo evento fortuito a iscriversi a filosofia e quindi può studiare la materia che ama e va a Monaco va a Monaco perché vuole vedere una metropoli vuole vedere una vera città lui è cresciuto a Ludwig Schaffen che è la cittadina più brutta di tutta la Germania sede di una mastodontica tuttora sede di una mastodontica industria chimica e è vero è di rimpettaglia della bellissima Manheim però insomma lui vuole vedere Monaco arriva a Monaco però qui conduce in realtà una vita molto modesta perché non conosce nessuno e vive in una piccola camera affittata da un'anziana signora a casa di questa anziana signora ecco e una sera rincasando quando ormai è tardi non trova nessuno in casa ma si trova di fronte ad uno spettacolo agghiacciante Bloch si trova davanti ad una bara aperta con all'interno la salma di un anziano signore tutta circondata di lumini ecco Bloch è giovanissimo si trova da solo al buio di fronte a un cadavere è terrorizzato se la dà gambe elevate sbatte la porta corre per strada corre corre finché non vede un caffè notturno acceso e si infila in questo posto in una betola dove dice Bloch io non sarei mai entrato in vita mia se non fosse stato solo per quell'evento terrorizzante entra in questo posto e in questo luogo conosce un uomo che gli presenterà nell'ordine una ragazza di cui si infatuerà e che gli farà cambiare sede universitaria Gheorghi Lukacs il grande filosofo ungherese che avrà un'enorme influenza nel suo pensiero nella sua formazione filosofica e anche Else von Stritsky la sua prima moglie di cui si innamorerà alla follia e alla quale in parte dobbiamo anche la grande influenza del Geist e del Rutopi del suo primo capolavoro di Bloch ecco ma che poi morirà giovanissima ecco quindi in modo del tutto casuale gli si è stravolta la vita a Bloch e chi era quell'anziano signore quella salma dentro la bara poi Bloch ce lo spiega per curiosità era il marito dell'affittacamere che però se n'era andato di casa da tanti anni era stato scacciato di casa aveva perso anche il lavoro perché si era innamorato di una giovane ballerina poi invecchiato e ammalato ormai terminale era tornato a casa chiedendo alla moglie di accoglierlo e lì aveva trascorso gli ultimi giorni della sua vita quindi quello che Bloch ci invita a fare è proprio a riflettere sui momenti della nostra vita che hanno determinato la grandezza della nostra vita ovviamente la grandezza di Bloch certo è una grandezza proprio manualistica ma lui intende proprio il nostro passaggio all'età adulta il momento in cui siamo diventati grandi in cui abbiamo intrapreso la strada che ci ha fatto diventare quelli che siamo ecco quei momenti dice Bloch sono talmente minuscoli impercettibili casuali alle volte quasi ridicoli o confinanti con il grottesco che impallidiscono questi momenti anche solo se affiancati a paroloni come karma provvidenza destino ecco fatto sono proprio delle cose minuscole qua risiede la potenza del dettaglio ed è ancora una volta lì a dirci Bloch di guardare la vita indossando le lenti del mistero della fascinazione della meraviglia perché sono quelle lenti che ci permettono di vedere il dettaglio che rimane ma che rimane dopo cosa e Bloch ce lo spiega che rimane anche dopo che noi abbiamo incasellato tutta la nostra esistenza che abbiamo enumerato tutto il resto una volta che noi abbiamo incasellato nei cassetti della nostra logica nello spazio nel tempo nei rapporti di causa effetto in tutte le categorie che ci insegna anche Kant una volta che abbiamo incasellato tutto resta fuori qualche cosa e quello che resta fuori è più importante di tutto il resto proprio perché non ha trovato una collocazione ed è da lì che spesso ripartiamo per sperare ecco termino con una lettera che Bloch scrive a Carola Carola che poi negli anni 30 che diventerà poi la compagna di tutta la sua vita e alla quale dobbiamo anche una meravigliosa biografia di se stessa e di riflesso anche di Ernest Bloch e le scrive una lettera in cui dice sono sempre meno quelli disposti ad ascoltare i narratori di fiabe ormai il mondo è cambiato il capitalismo ha estirpato questa tradizione ora gli uomini leggono il giornale credono solo in ciò che è utile in ciò che si può comprare ma attenzione ci mette in guardia Bloch pur da comunista dice attenzione perché il comunismo non è da meno in questo porta proprio a termine l'opera iniziata dal capitalismo perché il comunismo confonde la fiaba e i sogni ad occhi aperti con le menzogne che giustificano la realtà ma le fiabe e i sogni ad occhi aperti non sono menzogna perché si finisce così se noi confondiamo la fiaba la fiaba con la menzogna si finisce così per ignorare il potere evocativo delle fiabe quello che Bloch appunto definiva il probire anderson nell'assaggio del sole cioè il potere rivoluzionario di immaginare la realtà diversa da quello che è ed è proprio così che Bloch il filosofo della speranza e dell'utopia concreta conclude la lettera carola scrivendo forse io sono l'ultimo sognatore del vecchio mondo ma con altrettanta sicurezza il primo del nuovo grazie vediamo se c'è qualche intervento da casa grazie vedo se lo trovo forse non arrivano domande ah bene adesso aspettiamo individuiamo il prossimo se posso trovarlo così ci salutiamo dando anche il prossimo appuntamento del ciclo di Daniela grazie benissimo ha chiedo ad Antonio di approfondire il tema del mito in politica bella domanda Daniela sicuramente ma certamente molto impegnativa allora brevemente si può dire che in questo testo di Cassirer ah sì sì Cassirer benissimo certo 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 allora indubbiamente Cassirer è un grande studioso del mito come dicevo prima il mito è proprio una di quelle forme simboliche attraverso cui lo spirito umano dà forma reale infatti ovviamente l'opera cardine di Cassirer su queste tematiche è la filosofia delle forme simboliche che però lui stesso ha sentito il bisogno in qualche modo di condensare in opere un pochettino più fruibili infatti io ho utilizzato proprio per questo un intervento quest'opera che si intitola appunto linguaggio e mito e Cassirer infatti fa una vera e propria analisi in parte anche storica del mito e della sua funzione mi ha colpito molto però vedere e capire come in uno dei suoi ultimi testi lui sente il bisogno di chiarire che il mito quello classico quello di cui abbiamo parlato anche noi nel nostro intervento e che sta in relazione con la filosofia contenga appunto già in qualche modo i germi del proprio superamento se così lo possiamo chiamare quindi la tendenza del mito è a depurarsi di quelle forme di quelle scorie che potremmo definire più irrazionalistiche e di passare appunto verso delle forme simboliche che in qualche modo rappresentano una maggior maturità del pensiero se così la possiamo definire è infatti appunto una citazione abbastanza efficace a questo proposito che adesso vedo se ritrovo qua sul mio powerpoint è proprio questa ecco qua anzi no ecco forse non l'ho messa però comunque sia dice Cassirer dice Cassirer proprio in conclusione di quest'opera no finché le forze intellettuali etiche e artistiche sono nel loro pieno vigore il mito è domato ma non appena esse cominciano a perdere di vigoria il caos ritorna quindi in qualche modo partendo proprio anche lui in chiusura di quest'opera da una leggenda che è una leggenda babilonese ci chiarisce questo quando l'oscurità del mito viene vinta in un certo qual modo dal nuovo universo di quelle forme intellettuali etiche artistiche in realtà qualcosa del mito sopravvive quindi i mostri mitici sopravvivono nel nuovo universo così come potremmo dire per analogia anche antichi culti quali quelli orfico dionisiac sopravvivono nel pensiero filosofico quest'idea di un uomo a due dimensioni del corpo come prigione dell'anima di un elemento divino dell'uomo che è l'anima che viene appunto imprigionato in un elemento corporeo e mortale no allo stesso modo dice Cassirer i mostri del mito sopravvivono no in qualche modo solo che quando le forme più avanzate no perdono di forza allora il pensiero mitico riemerge e dove riemerge dice Cassirer sulla sfera della politica sul terreno della politica e riemerge appunto con i miti politici moderni uno su tutti il mito della razza certamente e qui però il mito sul terreno politico è pericoloso perché viene appunto accettato in maniera critica da quelle che sono da quelli che sono i primitivi di oggi no le masse Cassirer non si sofferma ad analizzare questo tema della massa in realtà in questa sua opera però il tema delle masse dell'epoca contemporanea rimane continuamente sullo sfondo no per cui appunto nel momento in cui l'irrazionalismo di massa diventa più forte di ogni altra cosa ecco che allora rischia di riemergere il pensiero mitico in una forma però che assolutamente Cassirer vede come pericolosa no senza dubbio non so se ho cercato di sintetizzare molto il tema poi qui c'è un'analisi in parte filosofica in parte storica no per quello che riguarda appunto il mito sul terreno della politica però ecco certamente è l'avvertimento che Cassirer proprio poco prima di morire ci fornisce attenzione perché sul terreno della politica moderna i miti possono essere certamente anche molto pericolosi mi ricordavi Antonio infatti l'ultimo capitolo del mito dello stato in cui esattamente viene proprio messo in modo in modo netto la divisione distinzione tra il mito antico arcaico e il mito moderno che diventa pericolosissimo e un altro Ernst che si rifà sempre a quel discorso per evidenziare quanta differenza ci sia tra il mito del terzo del terzo regno di Gioacchino da Fiore e quello del terzo Reich di Hitler e quella è una distinzione ad esempio simbolica evidentissima proprio di quello che dicevi che è estremamente fondato e ovviamente noi ringraziamo tutti quelli che ci hanno seguito salutiamo l'amico maestro collega Roberto Lolli che ci ha salutati adesso nel messaggio ecco e qualcuno chiedeva degli attestati sicuramente sulla modalità di consegna degli attestati vi arriverà una mail e vi verrà chiarito non so se nel frattempo abbia già risposto Daniela che ci sta seguendo e che si occupa di queste cose ma ad ogni modo verrete sicuramente edotti sulle modalità non so se in cartaceo o in modalità web ecco elettronica vi salutiamo indicandovi il prossimo appuntamento a cura dell'istituto Gramsci dell'istituto di storia contemporanea di Ferrara che è Sigmund Freud un ricordo infantile di Leonardo da Vinci presentazione della nuova edizione dell'opera a cura di Enzo Cicero ne parlano Enzo Cicero e Giuseppe De Vita e presenterò io l'autore e appunto il relatore Buona serata a tutti e grazie ovviamente anche a Fausto Natali che ha curato tutta la diretta streaming di Enzo Cicero e